Trovati all'appuntamento con le previsioni del tempo, cominciamo con la situazione generale in Europa. Una corposa bassa pressione ha raggiunto l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda, portando con sé forti piogge e temporali. Nelle regioni italiane invece condizioni generali di bel tempo con qualche piccolo residuo nuvoloso. Provisioni per la giornata del 31 ottobre 2014, caratterizzata da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni italiane, con nuvolosità irregolare e pioggia soltanto sulla Sicilia. Temperature comprese tra 6 e 23 gradi con venti di direzione variabili deboli e mari mosso o poco mosso, l'Adriatico, il Mar Ligure ed i restanti mari.